salve a tutti bentornati sul mio canale oggi siamo in Basilicata precisamente a Castelmezzano e siamo qui non per fare il classico volo dell'angelo ma siamo pronti a percorrere la via ferrata iniziamo facendo questo piccolo sentiero che ci porta all'aggancio della via ferrata questo è il sentiero delle sette pietre e arriveremo a un incrocio dove si può percorrere la Salem e la Marci Rosa la Marci Rosa che ci porta verso Pietra Pertosa ma noi iniziamo facendo la Salem oggi siamo pronti ciao 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 Grazie per la visione! 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 E' spettacolare nella parte finale, emozionante da fare! Bella bella! Niente, adesso chiudiamo il cerchio che ci porta di nuovo al paese di Castelmezzano dove riprendiamo l'auto e si ritorna! Ci vediamo! Alla prossima!